buongiorno e benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo nuovo vlog allora ci vedete in macchina siamo io maurizio mattino è andato a fare una visita ad acqui e al pomeriggio cioè a prendere i documenti ad acqui e al pomeriggio siamo andati a fare la visita a Novi dal dall'orologo ed eccoci qui siamo usciti dal dall'orologo e mi c'è voluto qualche giorno per riuscire a a fare questo audio perché sostanzialmente le cose che ci sono state dette ci hanno colto alla sprovvista avevamo un'idea ovviamente c'eravamo fatto un'idea di quello che poteva essere ma diciamo che sentirlo dire è stato difficile e anche la decisione che hanno preso non è stata proprio c'è non maurizio soprattutto non se l'aspettava ne avevamo parlato della dell'ipotesi che poteva succedere però quando poi ti senti dire che invece la decisione che hanno preso proprio quella ci rimane un pochettino così qual è la situazione la situazione che purtroppo questa massa come noi avevamo immaginato è un tumore non sanno se è benigno o maligno ci hanno messo davanti tutte le opzioni e la prima opzione è che se è benigno non dovrà fare niente altro semplicemente tenersi controllato fare dei controlli se invece questa cosa dovesse essere mediamente maligna hanno parlato di immunoterapia che è una cosa di cui non avevo mai sentito parlare quindi per noi è stata tutta una novità e se invece fosse molto cattivo ovviamente dovrebbe fare varie terapie quindi radioterapia chemioterapia e ovviamente tutti noi speriamo che non sia che non sia cattivo proprio però lo scopriremo solamente quando lo per cioè lo scopriremo nei momenti in cui lo opereranno e faranno la biopsia durante l'operazione non leveranno solamente il tumore ma anche il rene destro perché purtroppo è compromesso ad alti livelli ha detto il chirurgo e lui consiglia di non di non mantenerlo questa cosa qui ha lasciato un po diciamo un po così soprattutto maurizio abbiamo chiesto lui ha chiesto se se ci saranno delle conseguenze ma assolutamente lui ci ha detto di no che si può vivere con un rene solo l'altro rene per fortuna sta bene lavora bene quindi non c'è problema abbiamo poi anche casi nel senso che mia zia mi ha detto che anche la mia nonna aveva un rene solo e ha vissuto tutta la vita così sua nonna ci ha detto poi sua zia che le è stato asportato un rene quando aveva 18 anni e ha vissuto anche lei tutta la vita con un rene solo quindi di stare assolutamente tranquillo ovviamente è un pochettino il pensiero c'è perché comunque è una cosa che non ti aspettavi e che comunque lascia un po' così no ecco perché sono sempre un po' quelle cose che ti lasciano un po' sbalordito un po' preoccupato un po' tante cose però ci hanno detto che di aspettare semplicemente e ha dovuto fare gli hanno dato un altro esame da fare deve fare una tacca alla testa che ho visto su internet poi che è una prassi cioè quando ci sono i tumori e i reni si fanno anche le tacca in altri punti che magari non si sono guardati prima per controllare che non ci sia niente lì ma penso anche gliel'abbiano fatta fare perché la mamma di Maurizio è morta perché aveva un tumore alla testa e quindi penso vogliano controllare che non ci siano cose da nessun'altra parte detto questo dopo questa cosa qui ci hanno spiegato un po' il percorso che dovrà fare deve aspettare la chiamata per gli esami preoperatori dopodiché che avverranno solamente dopo che avrà fatto questa tacca alla testa che hanno già prenotato all'ospedale di Acqui per venerdì e poi lo chiameranno per l'intervento dopodiché si aspetterà l'esito della biopsia e una volta che arriveranno risultati della biopsia si vedrà quello che ci sarà da fare quindi purtroppo ancora attesa dobbiamo ancora aspettare e pazientare quindi appena avremo nuove notizie e lo vedrete nei video io non sono assolutamente dell'umore in realtà ma sto cercando di registrare lo stesso per cercare di aiutarmi sia da sola che grazie al sostegno che sentiamo da parte vostra vi ringrazio di questo vi ringrazia tanto anche Maurizio mi siete state vicine e mi avete aiutato in un altro momento bruttissimo della mia vita e sono riuscita ad uscirne grazie a chi mi ha sostenuto mi ha aiutato mi ha preso sotto braccio e mi ha detto vai che ce la fai vedrai che ce la fai e in effetti ce l'ho fatta e quindi anche in questo momento ho bisogno di voi e quindi è per questo che faccio i video e poi anche per farvi vedere che comunque nonostante tutto anche nei confronti dei ragazzi stiamo cercando di continuare a condurre una vita normale ovviamente capita di parlarne soprattutto con i più grandi mi fanno domande e quindi ecco diciamo che l'unica con cui non ne parlo è Pia mentre invece i grandi sanno tutto per filo e per segno tutti gli esami che sta facendo tutte le cose che ci hanno detto i dottori e sanno tutto tutto perché sono grandi e non li si può tenere nascoste le cose in realtà avrei anche evitato di dirlo a Giada ma comunque è grande anche lei e non me la sentivo anche di tenerla all'oscuro di questo perché non volevo perché comunque è ancora piccola è ancora una bambina e più tardi ti approcci a questa a questa verità che è poi la vita che comunque la vita è bella ma delle volte prende delle pieghe che non piacciono a nessuno e volevo tenerla lontana da tutto questo ma in realtà mi sono resa conto che non è una cosa possibile e quindi l'abbiamo detto anche a lei Pia non l'abbiamo non gliel'abbiamo detto chiaramente ne abbiamo parlato sempre mentre lei non c'era o magari era impegnata a fare altro e magari in un'altra stanza e le spiegherò poi a grandi linee quando Maurizio andrà in ospedale che verrà operato che papà non stava bene che ha fatto degli esami che l'hanno dovuto operare che quindi sarà un po' in ospedale poi tornerà a casa e quando poi sarà a casa dovrà fare piano perché comunque avrà male è piccola ma in realtà so che capirà benissimo tutto comunque volevo aggiornarvi e niente adesso continuiamo con il video e quello che vedrete adesso siamo io e Maurizio che usciti da da questo dall'urologo di Novi stavamo tornando verso casa e lui mi dice guarda vorrei portarti in un posto e voglio portarti a vedere una cosa me l'hai sempre chiesto non ti ci ho mai portato adesso che siamo qui intorno ti ci voglio portare quindi mi ha portato in questo supermercato in questo grosso negozio che si chiama Iperdoriente alimentare c'è tutti una parte di vestiti oggettistica c'è veramente qualsiasi cosa come un negozio di cinesi ma molto più grande tre volte più grande e c'è anche la parte alimentare quindi si trovano prodotti cibi che si usano nella cucina cinese giapponese nella cucina orientale tailandese e qualche cosa di interessante l'abbiamo trovato ma non so non so se lo vedrete in questo video o se lo vedrete poi nel prossimo è una cosa veramente molto interessante ma adesso vi lascio alle clip che ho girato non ne ho potute girare tantissimo perché comunque c'era gente però credetemi che questo magazzino sarebbe da andarci bisognerebbe andarci con i soldi e con il tempo perché c'è veramente qualsiasi cosa e magari ci torneremo poi un'altra volta in un altro momento perché rimane un po' fuori da noi quindi non è proprio un posto dove dici vabbè ci passo davanti e ci vado no comunque vi lascio alle clip ma che bel fresco che c'è qui dentro teniamo il carretto no non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho preso per provare perché è la prima volta un chilo di gancetti perché stanno a 4 euro al chilo quindi ne ho preso solo un chilo, un chilo di melanzane che ne sono venute tre e un chilo di cuori di bue che ne sono venuti quattro. Siamo passati dall'Eurospin, abbiamo preso le mozzarella perché quelle che avevamo le abbiamo già finite così oggi facciamo pomodoro e mozzarella. Poi devo far cuocere i gancetti, i fagiolini che ho, ho delle zucchine per fare torte salate eccetera quindi mi devo mettere all'opera in questi giorni e preparare un po' di buon cibo. Con le melanzane le farò grigliate e poi le faccio condire alla mamma come fa lei con olio, prezzemolo e poi invece con quest'altra volevo fare la parmigiana. E niente quindi c'è un po' da fare, adesso non so bene quando farò che cosa, come, perché ma cercherò di farvi vedere tutto quanto. Per prima cosa vado a scaricare e ricaricare la lavastoviglie e diciamo che con tutte queste preoccupazioni di quest'ultimo periodo alcuni punti tipo il divano, tipo magari lì sulla lavastoviglie, così ha preso un po' una via che non mi piace. C'è disordine, caos e adesso che ci sarà un attimino di tregua diciamo nel senso che bisogna aspettare che ci chiamano e cercherò di sfruttare il tempo che ho in casa facendomi aiutare ovviamente anche dai ragazzi, sempre stando dietro comunque anche ai loro impegni per dare una sistemata, per cercare di dare una riordinata in modo che si mantenga così per un po'. Ovviamente nell'ultimo periodo siamo stati tanto fuori per fare visite eccetera, i ragazzi facevano lavastoviglie, pensavano alle loro camere eccetera, però diciamo che alcune cose sono passate un po' in secondo piano perché non erano essenziali, il mio umore ha avuto una battuta d'arresto pesante e sono andata un attimino in down e poi però mi sono ripresa e quindi devo anche riprendere un pochettino il controllo della situazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ho portato giù anche Max che è uscita e sono passata da un'ortofrutta che magari avete già sentito nominare perché ci è andata anche Sara, si chiama Magra Ortofrutta è ad Acquiterme e fa una promozione diciamo antispreco, mette alcuni prodotti a un basso costo al chilo che sono magari maturi o comunque da prendere in grandi quantità e io sono andata appunto per prendere quelle cose che non avevo quindi non ho preso ovviamente zucchine non ho preso melanzane ma ho preso altre cose allora qui c'è un casco di banane poi ho preso un chilo e un chilo e un chilo e mezzo di peperoni gialli poi ho preso quattro ananas che me li ho messi super scontati perché sono maturi due melanzane, due melanzane, due melanzane, due melanzane, due melanzane, due melanzane, poi ho preso due chili di cuori di bue, pomodori che stanno a 1,50 euro al chilo e poi ho preso questa grossa cassetta di pomodori perini che invece stanno a 0,90 euro al chilo prendendo la cassetta i peperoni uno 1,50 euro l'altro 1,50 euro l'altro 1 euro al chilo ananas 1 euro al chilo e anche i meloni quindi zucchine ne abbiamo fagiolini e li stiamo facendo cuocere ne abbiamo melanzane ne abbiamo così adesso abbiamo altri peperoni frutta e pomodori siamo a posto siamo a posto veramente per una decina di giorni però comunque se la roba si fa cuocere magari prima poi si mette in frigo ecco si riesce a fare per quanto riguarda i pomodori vorrei anche fare un po' di salsa non da mettere via ma un po' di pomodoro fresco fatto al momento e mangiata così una pasta magari col pomodoro fresco se magari viene una giornata di pioggia che si rinfresca un po' chissà e i pomodori li ho presi per quando noi mangiamo le zucchine come contorno per Sabrina perché a lei non piacciono le zucchine e quindi perlomeno si fa 1 o 2 pomodori ed è a posto comunque vi farò poi vedere come andrò ad utilizzare un po' queste cose qui quindi sicuramente stasera ce la utilizzare le banane e da pulire gli ananas per metterli via quindi adesso sistemo ah tutto questo che vedete peperoni rossi peperoni gialli 4 ananas questa cassettona di perine che non sembra sempre 3 chili 2 chili di pomodori cuori di bue 2 meloni le banane le ho già lette no e le banane tutto questo per 20 euro fatemi sapere se secondo voi i prezzi sono buoni come sono da voi per come sono qui sono ottimi i prezzi e quindi ne ho approfittato e niente adesso vado a sistemare queste cose se no stasera non ce ne è quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qui gli ananas puliti e l'hanno già assaggiato, è buonissimo, quindi ottimo e niente, adesso mi metto a preparare invece per la cena. E per cena 4 pomodori perine condite con olio e sale, un po' di fagiolini e una frittata fatta con i fiori delle zucchine. Buongiorno, allora oggi è sabato e stiamo pranzando con pomodori che hanno tagliato Gabriele e Maurizio. I fagiolini che abbiamo fatto cuocere ieri, che ha pulito Maurizio, Sabrina e io, e li abbiamo fatti cuocere ieri, erano in frigo, li hanno tagliati. Io devo dire una cosa, allora, la mamma c'è una salsa diversa e io ho anche, perciò c'è la maniese e lei. Ah, vi faccio vedere anche l'occhietto di Pia che sta guarendo, praticamente non si vede quasi più, ma stiamo continuando a metterla a crema. E poi ci sono anche dei broccoli che c'erano di là delle rosette che aveva pulito qualche giorno fa Gabriele. Ieri ho fatto cuocere anche quelle, oggi le hanno messe qui. E poi abbiamo messo dei cubetti di prosciutto e adesso ho messo la senape. Me la passate che la faccio vedere, quella senape lì, che l'abbiamo presa all'Eurostin. È la senape del bracciere, questa qui con miele New York style ed è abbastanza buona, non è troppo forte come la senape, diciamo. E basta, adesso noi pranziamo e ci aggiorniamo dopo. Allora, qualche giorno qua con Maurizio, l'avete visto, siamo stati in un negozio che vendeva anche cibo cinese, abbiamo preso tante cose, tra cui questi noodles di riso thailandesi, che non so se sono proprio come gli spaghetti di riso normali, comunque li abbiamo presi, sono senza glutine e li abbiamo presi per provare a farli proprio tipo come si mangiano a ristorante giapponese, quindi con le verdure e in questo caso come fonte proteica noi abbiamo scelto le uova. Cioè abbiamo scelto perché sto seguendo una ricetta, lei quella della ricetta usa le uova. Niente, adesso vi farò vedere i vari passaggi e vediamo un po' come vengono, speriamo bene perché non sono proprio spaghetti di riso, sono più noodles e quindi non so se il gusto, se sono uguali, vabbè, li proviamo e poi vediamo. Abbiamo preso anche questi cracker di gamberi che sono in pratica nuvolette, le nuvolette di gamberi solo che sono da fare in fritte. E quindi adesso vediamo un po' come vengono, ho già messo a scaldare l'olio, quindi stasera tutto a base orientale. Per prima cosa ho sbattuto quattro uova, lei ne sbatteva solo uno ma siccome la quantità che andrò ad utilizzare io è molta di più, perché siamo molte più persone, ho rotto quattro uova e le ho sbattute. Adesso appena l'olio che ho messo nella padella, olio di semi, è caldo andrò a metterci dentro le uova. Devo prendere l'uovo? No! No! Andiamo ad aggiungere la cipolla che ho affettato e la lasciamo a passire un po'. Così, se no si schizza l'olio. Così? Ho paura che mi vada addosso. Max non va addosso. Cos'è non possibile? Ma come sono? Ma guarda le! Dobbiamo finire. Questa magia. Guarda anche l'olio. Ora, dopo aver fatto andare un po' le verdure, ho aggiunto la salsa di soia. Io sto usando quella senza glutine e quella che sto usando io in questo momento è questa qui. E adesso le sto facendo andare ancora con la salsa di soia. E tra un pochino butterò giù la pasta, che però in confronto ad altre che ho visto, che però non ho trovato senza glutine, questa qui va messa proprio nell'acqua che bolle, tre minuti e poi va scolata e raffreddata. E poi la metterò insieme qui alle verdure per farla saltare. Vediamo come viene, non vedo loro! Ecco le nuvolette pronte, ne sono venute tre, più quelle che ci siamo mangiate mentre le facevamo, più un po' le abbiamo date alla mamma. E adesso vi faccio vedere gli spaghetti. Ecco qui gli spaghetti con le verdure, i noodles di riso con le verdure. E sembrano molto buoni. Molto molto buoni. Ed eccoli pronti, sono venuti buonissimi. Sono piaciuti a tutti. L'unica cosa, il taglio delle verdure andava fatto in un altro modo. L'ho visto poi dopo che io l'avevo già tagliata. Però veramente ottimi. E qua invece c'è la torta salata di zucchine che ho fatto poi la cena del giorno dopo. E con questa siamo arrivati alla fine di questo video. Che spero che vi abbia tenuto compagnia. Io vi mando un bacione. Ciao! 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 Grazie a tutti.